Adesso ragazzi vi racconto velocemente una cosa che mi è successa un po' di tempo fa Mi è capitato di relazionarmi con una persona che credevo fosse una bella persona Una persona vera, una persona sincera, una persona che mi apprezzava per quello che ero Per come mi approcciavo io In realtà, in realtà, in realtà non ho potuto fare altro Parlo con la voce telecomandata, infatti non ho potuto fare altro Che vedere quanta finzione, quanta falsità e quanta malignità ci fosse in codesta Persona, ahimè E non è una questione ai ragazzi appunto che le donne sono tutte uguali Non mi permetto di dire che le donne sono tutte uguali Per me le persone sono diverse, uomini e donne, siamo tutti diversi La frase tipica che sento dire, che ovviamente quasi tutti ripetono, è Le donne sono tutte uguali E le loro donne dicono, gli uomini sono tutti uguali Io ritengo che Più che distinguere comunque l'aspetto estetico e quindi dire che è bellissimo, che è bella quella ragazza Ma una testa vuota o viceversa Bisogna prima guardare l'aspetto interiore Cioè prima ancora che tu dici è favolosa la voglio con tutto me stesso So che è difficile ragazzi, lo so perfettamente adesso Non voglio essere retorico o dire frasi fatte Non voglio annoiare assolutamente il pubblico che mi segue così Però volevo raccontarvi questa cosa Per cui prima di... il consiglio che vi volevo dare Cercate di guardare prima la testa di una persona Prima di dire la voglio, ok mi ci butto Conoscetela bene di testa Perché può essere vuota Bellissima fuori Ma vuota dentro E poi fate la fine magari che ho fatto io Piccolo spoiler Ciao Ciao